Ciao ragazzi, sono Noemi Kawicelli e oggi siamo in un nuovo video, oggi siamo in un vlog Ciao ragazzi, fighissimo, guardate E dove devo fare inquintazione? Io che mi scriverò Ti adoro Guarda Noemi si deve fare inquintazione ragazzi E ragazzi è bellissimo, è stupendo, questo video durerà un paio di minuti E' quasi tutto scarico Anna E' un po' scarica il tavolo ragazzi, magari durerà un po' Mi rimane una tacca, un po' o tanto durerà Quindi ragazzi guardate tutto il video perché sarà scuro Cominciamo con un bellissimo applauso a questa prima sinistra Aspettate ragazzi, dove c'è io? Eh ma come faccio a fare l'applauso se ho la telecamera? Fai così Come alza bene, sia gli anteriori che i posteriori Assieme a meno schiavole vedo anche un altro personaggio Ma che raro va? Non lo so Come schiavo? Mal tempi di invasione Lunga vita in Malte Ma il vino Lino Buongiorno Buongiorno I want to do some body 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 Ragazzi Ragazzi lo mette giù perché deve applaudire Quindi Con noi ci accompagnate il nostro mazzo Guardatelo che bello raga Questa è una cosa nuova che abbiamo portato sul canale con noi Con i vlog Questo qui è il nostro secondo vlog e ne faremo tanti altri ragazzi E' una rossa Un tempo sottolineare E' una rossa Badone Poi c'è qua è quello Praticamente sono quelli grandi Quelli di rossa gigante Ci sono quelli più piccoli Cioè quelli normali Che si chiamano Però le farabelle sono le più piccole del mondo Martina Asura c'era la mia insegnante Perché l'entra è in tutazione E' brava Tienilo così Appoggiati qua Bravi Ok Bravi Appoggiati qua Così Oddio Che bello C'è la bambina sopra Vai Vai Bene E' un sito ora Ragazzi Se ne arriveranno molti Ma molti Molti ripeto Avete visto che maestosità E' molto gnocco Chissà cosa accade Oh no E' buono Ma non mi toccherà fare un video in cui cavallo con cavallo mi dovrai registrare tu Vedete l'infodio c'è già uno che sta passando No Deve entrare Deve entrare Adesso entrano Allora ragazzi Questo coso Quando noi non avevano ancora il canale Era più piccolo Adesso l'hanno allargato C'è Guardate Va più C'è Va più corto Sotto il tendone Sotto il tendone Sì adesso È gigante Tipo Dovete guardarli che belli Guardate Sono Sono ben due Uno sta venendo E c'è anche la razza americana ragazzi La più bella di tutti Bianco e marrone Guardate Guardate Arriva l'altro Guardate che arriva Anche l'altro Il terzo Adesso dovrà arrivare la razza americana la più bella di tutte Eccola guardate Sta venendo da questa parte Guardate Guardate Sembra che la razza americana non vende Eccola Eccola qua Ma cosa Che scuola Eh Zoom Ok Però se zoom troppo Non si vede Eh allora Mettiamo il normale L'ho messo medio Zoom Ok Zoom medio Dai Io ce l'ho normale Eh perché Sceglie malissimo Che visita Guardate Una fila di cavalli Oh Per sentire Un applauso alle nostre ragazze Bravissime Adesso viene qua Ecco con l'americano Ragazzi Vedrete Il più bello Che l'americano Non è questo Però è bello Neanche questo Che bello Adesso arriva l'americano Questo qua Il più bello di tutti Guardate Sembra tipo un mix di mucca Sembra tipo una mucca Ha la stessa intonalità di una mucca Ma se non è buco così eh Ma se non è buco così eh Ma suoi Fanno il latte e il cioccolato Ma hai sentito il latte e la fragole Bellissimo Guardate che belli Guardate che belli E intanto Passo le bello Che bello con i suoi Ok adesso vi zoom Oh madonna come si è venuto vicino alla telecamera Oddio ne è venuto vicino alla telecamera Che bello Era tipo Si veniva tutta la faccia nella Guardate quello americano Bellissimo È tipo una fila di cavallo Bellissimo Buon male Tutte le nostre recassere